Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Yoreali di Blushango ed eccoci con questo nuovo video oggi vi faccio vedere la Lega Pokémon solamente il campione però arrivo eccoci benvenuto Vera speravo di incontrarti qui un giorno raccontami cosa hai visto nel tuo viaggio con i Pokémon come è stato incontrare tanti bravi allenatori che cosa hai imparato dalle esperienze che hai vissuto nel tuo viaggio attraverso Hun voglio che me lo dimostri lottando contro di me con tutte le tue forze anche la mia squadra non ci risparmieremo forza, vatti sotto bene, inizia la sfida speriamo che abbia un Pokémon che io possa affrontare così scoprirete anche i Pokémon che uso Rocco, campione Lega Pokémon parte la sfida di Rocco che manda Scarmory Scarmory, che bello e noi abbiamo Sidra e vedete sono 50 e l'unico Pokémon debole della mia squadra lo so vabbè andiamo con Geloraggio e dai 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 merda non levo un... vabbè dai ci sta e l'assalto non ci fai male ok perfetto uuuuuh servo ok usa tossina ma che cazzo ma pelini ma sei scemo blu 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 si si servo usa una ricarica totale su questo stronzo capisce niente da la vita si si va bene vediamo Surf ancora tutto che cazzo ci vuole per un solo Pokémon di merda usa punte va bene tanto non ci fai niente si 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 il bene è l'effetto va bene va bene sempre hai ragione Rocco Pedri e noi andiamo con Cascata uff morto primo Pokémon su sei è andato bene ciao ciao Scarmory Rosarade sale al cinquantotto si ho anche un Rosarade ora sapete due Pokémon della mia squadra cavolo Credili tipo Roccia Erma Dovrei mettere Dovrei mettere sì vabbè per ora metto Blaziken perché se il mio start è di Pokémon Zaffiro Alfa non so se ve l'ho detto sì siamo in Zaffiro Alfa è Blaziken si 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 ah già punte allora Mega Evolviamoci e Spaccaroccia Mega Evoluzione Mega Blasiken ah non mi sento il volume un attimo leggero perché sennò poi magari non mi sento io vediamo Spaccaroccia speriamo di toglierli abbastanza va bene togliere metà praticamente sì stor di raggio che cavolo perché devo essere confuso non capisci niente acceleratore attacchiamo prima noi di nuovo Spaccaroccia dai ti prego ti prego attacca 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 bene ok è morto due giù due su sei mancano quattro ragazzi acceleratore Aggron bene io vi faccio scoprire un altro Pokémon rientro Blaziken esci fuori Gardevoir il Gardevoir è un altro del mio Pokémon lo mette Aggron lo mette perchè metti lui perchè il mio Gardevoir è bello si ok ok c'è la vigore perchè il mio Gardevoir ha questa bella mossa foglia magica bene non gli levo un cazzo vabbè co d'acciaio no 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 Gardevoir merda allora mettiamo Rose Raid va il mio benamino delle rose Rose Raid colpito da punta si va bene usiamo Fior Tempesta peter taglio oh sono abbastanza in difficoltà sta lotta ma te ne vai fuori un culo vediamo un giga assorbimento ok bene ora ne mancano solo tre di Pokémon è bello che io ho sempre vinto no? perchè l'ho già fatto una volta si tra il 51 blazing e il 58 quindi si immagini proprio ora mentre registro no? magari perdo tipo a casissimo un altro dei miei Pokémon è Crobot le mette Claydol Crobot vai con Nero Pulsar Tentenna benissimo di nuovo bene usa riflesso che se ne frega non fa niente riflesso e vai Nero Pulsar ah ricarica totale di merda vai un altro Nero Pulsar forza ora l'ultimo Nero Pulsar e abbiamo distrutto anche Claydol bene anche Claydol è andato giù ora vuole mettere in campo Armaldo Armaldo ok teniamo aspettate che level volume perchè non può fastidio uso acrobazia ok ok oh cavolo non aveva niente ok 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 bene ok 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 non ho fatto così poco perchè c'era riflesso vabbè ciao crobat grazie grazie mettiamo l'ultimo pokemon che non l'avete visto eccolo qui altaria ok usiamo un bo per fare qualcosa un drago bolide vai speriamo che attacca ok ciao ciao Armaldo Armaldo bene ragazzi ne mancano due uno due altaria salita livello 59 imparare aero attacco no non glielo faccio imparare B e A bene non ha imparatore attacco Metagross ok con Metagross mettiamo il grandissimo fortissimo eccolo qui il pubblico acclama Blaziken cioè sarebbe Mega Blaziken questo qua però vabbè Metagross questo qua si può come più forte infatti io ho abbastanza paura allora Metagross ah Mega Metagross com'è oh mio Dio è fighissimo ho ancora più paura lancia fiamme lancia fiamme vai pfff oh merda cozzato a zen pfff cavolo è andato giù anche Blaziken e mettiamo Sidra che si è avvelenato di tutto potrebbe riuscirci si attacca ah cavolo c'erano punte quindi è morto non ci ho pensato allora mettiamo Rosel Roserade mai ci mettevo di meno tempo di solito cavolo usiamo buf tempesta cozzato a zen cavolo cavolo no Roserade era più ingratibile cavolo ragazzi mi rimane solo un po' come mi rimane solo altaria cavoletti posso usarla la mega pietra? no ehm drago bolide gioca impatto ti prego ti prego non farlo morire resisti 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 gross abbiamo vinto contro il campione io il campione sono stato sconfitto non avevo dubbi vero sei davvero un'allenatrice in gamma congratulazioni e poi grazie mille questa lotta mi ha permesso di comprendere il tuo modo di pensare i tuoi sentimenti i sogni che hai perseguito insieme alla tua squadra il tuo affetto per i pokemon ciò che loro provano per te questa sintonia mi ha permesso di lottare al massimo avete lottato uniti con grande coraggio superando i vostri limiti è proprio per questo che siete riusciti a vincere quando ti ho incontrato la prima volta avevo capito che non eri un'allenatrice qualsiasi e ora posso dire che non mi sbagliavo sei a pieno diritto alla nuova campionessa della regione di Owen vera vuoi qualche dritta prima della grande sfida con il campione? vera non mi direi che è già tutto finito quereva il professor Borch hai visto Brandon? non ti avevo detto che vera sarebbe cavata benissimo? complimenti vera ce l'hai fatta quando ho sentito che avevi sconfitto addirittura tuo padre nella palestra di Pietalipoli ho capito che avevi una possibilità oggi l'intuizione si è rivelata fondata sei la nuova campionessa congratulazioni vivissime ora entra a testa alta nella sala dei campioni vera, anzi campionessa seguimi spiacente ma sui allenatori che hanno ottenuto il titolo di campione possono entrare in questa stanza devi aspettare fuori con il professore eh? capisco non sono messi in storia alla regola vera sei grande, congratulazioni dove di fare? sopra taglio in corso non spenghi nella console verrà salvato il gioco in questa sala conserviamo i dati dei pokemon che hanno superato le lotte più difficili ed è qui che rendiamo omaggio ai campioni della lega pokemon ora registreremo il tuo nome fra gli allenatori che hanno trionfato sulla lega pokemon insieme ai nomi dei tuoi compagni che hanno lottato con te esatto, ora metteremo tutte le pokeball 1,2,3,4,5,6 e guardate ora che figata assurda eccoti nella sala d'onore ora ci sono tutti i pokemon con gratuazioni Sidra è livello 51 robot crobat livello 57 blaziken livello 58 guarda var livello 56 rosaride livello 58 e altaria livello 59 campionessa della lega pokemon con gratuazioni e no ragazzi abbiamo vinto eeeh abbiamo vinto qui si è girato tutto e si vedono tutti i pokemon vabbè ben tornata vera che ci mette così tanto ecco come dire pensavo che potremmo tornare a casa insieme dopo tutto abbiamo iniziato insieme questo viaggio no? tutto qui voglio solo fare il viaggio in compagnia allora andiamo torniamo ad albanova adesso guardate che figata cosa succede ho un minuto di registrazione basta quindi sbrigatevi qua ci sono tutte le i cosi e poi ci siamo noi che andiamo di la andiamo a casa andiamo di la scusami sono i crediti praticamente ecco è arrivato attenzione lo sto superando attenzione no oddio eh ragazzi comunque mentre vi saluto di già vi dico ci vediamo nella prossima parte e quindi niente ci vediamo nella prossima parte ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti